C'è un'associazione nazionale Partigiani d'Italia? C'è un'associazione nazionale Partigiani d'Italia? Le dico tutto, l'associazione è l'Anteas, l'associazione nazionale terza età attiva per la solidarietà. Il nome dell'associazione? Comitato a Pippi Bianca. Ok, l'associazione? Eh, un'associazione di Cisano. Il nome dell'associazione? Altri modi. Il nome dell'associazione? Il gruppo Pantellucci. Eccoci qua. Mi dici il nome dell'associazione? Associazione Fraternità. Il nome dell'associazione? La cooperativa l'Assembla. Di Opie e Oltre. Ok, perfetto. Il nome dell'associazione? Cddi di Sole. Ok. Eeeh, ecco qua. Il nome dell'associazione? Gruppo San Marco. Ok. Sd Over Limits On. Il nome dell'associazione? Ma stai qua? Stai qua. Arca. Ripeti? Gruppo Arca. Il nome dell'associazione? Eeeh, gruppo San Giacomo. Ok. Grazie. Sono Laura, stiamo dall'associazione Papa Giovanni XXIII, 100 primaventura. Il nome dell'associazione? Associazione Italiana Sferosi Multica. Ok. E' il progetto Un Cuore Nuovo che è realizzato dal Comune di Crema e dalla Dioce. Significa il nome dell'associazione? Adio! Ok. Siamo la Gesi noi. È scritto lì. Dimmi lo poterò, faccio... Adesso mi dice il nome dell'associazione? Noi siamo FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Mi dici il nome dell'associazione? Ipsia. Mi dice il nome dell'associazione? Radici. Il nome dell'associazione? Consorzio FAI. Eccoci qua, mi dici il nome dell'associazione. Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada. Delle associazioni. Ok, dici il nome dell'associazione? Eeeh, il nome dell'associazione è... Sono qui. Progetti Bollia. Ok. Grazie.